Citroën per l'estate 2015 ha scelto la Romagna, Cervia, il Fantini Club, un bagno che esprime perfettamente un po' quelle che sono le due anime del marchio, un animo glamour, un animo dinamico sportivo espresso perfettamente da C4 Cactus e così abbiamo creato il Cactus Bar, un posto nel quale le persone, i giovani, i ragazzi si possano ritrovare per bere dei coloratissimi cocktail analcolici. E poi l'animo più familiare, quello pensato per le famiglie. Fantini ha tutta un'area dedicata ai più piccoli con delle animazioni animate, diciamo, dal marchio Citroën. Ed è per questo che quindi siamo qui, per raccontare, creare una relazione con le persone, farle giocare, farle divertire e spiegare molto bene quelle che sono le anime glamour e lifestyle di C4 Cactus e più familiare di C4 Picasso.